Siamo a Salò, vediamo alle nostre spalle passare le bellissime macchine della Mille Miglia, Mille Miglia a cui partecipa Fonditalia, con noi Susanna Gelfi della GS Reti. Buongiorno, grazie. Susanna, l'hashtag di Fonditalia per questa Mille Miglia è la formazione non si ferma. Chiedo a te quanto è importante investire in formazione per un'azienda che voglia continuare ad essere competitiva sul mercato? Per noi è fondamentale, per le aziende come nel nostro settore avere personale operativo in campo formato sui rischi e su come si utilizzano le attrezzature in campo è di fondamentale importanza. In secondo luogo per noi la formazione è fondamentale anche perché crediamo che se un singolo cresce fa crescere tutto il gruppo. Molto bene, voi investite in formazione soltanto nel campo della sicurezza, quindi l'81-2008 o spaziate anche su altre tematiche? No, la parte principale la fa l'81-08, quindi la sicurezza, però nel corso degli anni abbiamo fatto tantissima formazione anche in altri ambiti sulla qualità, la sicurezza, l'ambiente, ma anche sulla gestione dei rifiuti, delle emergenze e abbiamo fatto anche un corso molto bello sul team building e sull'intelligenza emotiva che ha fatto crescere non solo il gruppo ma ogni singola persona personalmente, non professionalmente. Ecco, continuano a passare delle bellissime macchine e io ti chiedo alle imprese, a quegli imprenditori magari del tuo territorio che ancora non conoscono le grandi opportunità che sono offerte dai fondi interprofessionali, in particolare da Fondo Italia Quale consiglio tu ti permetti di dare? Beh, io mi permetto di dire che Fondo Italia per noi è stato ed è importantissimo in quanto ci permette appunto di fare una formazione trasversale sono molto flessibili, ci danno la possibilità di organizzarci, di fare corsi di formazione e di scendere in aula diverse volte durante l'anno e quindi di avere una formazione completa per tutto il personale, per cui assolutamente affidarsi ai fondi e soprattutto a Fondo Italia Bene Susana, io ti ringrazio, benvenuta a bordo, ricordati che la formazione non si ferma Assolutamente Grazie